A poco fa, Franco Gabrielli, il capo della polizia, ha fatto sapere che tutte le manifestazioni, comprese quelle di chi non crede in una fase emergenziale, devono svolgersi nel rispetto delle regole, quindi in forma statica, con rispetto del distanziamento, ma soprattutto con la mascherina. E beh, anche perché altrimenti tu manifesti, ma rischi di infettarti e infettarmi, quindi diciamo, il tema esiste. E ancora, a proposito di tweet, abbiamo detto che...